Per la giornata internazionale delle donne l'8 marzo 2013, quest'anno più che mai i sindaci dei 5 comuni della provincia promuovono un manifesto di riflessione su 5 punti fondamentali. La rappresentanza politica paritaria, la sensibilizzazione sulla violenza di genere, un rafforzamento dei servizi esistenti per le donne vittime di violenza, uno stimolo ad una maggiore condivisione del lavoro di cura e la promozione di politiche attive per l'occupazione femminile. Il documento, firmato e condiviso dall'assessorato alle pari opportunità di Carla Borghesi, coinvolge i sindaci del comune di Castelfranco di Sopra Rita Papi, Civitella in Valdichiana con Ginetta Menchetti, Monte San Savino con Margherita Scarpellini, Vergine Valdarno con Paola Prizzon e Sansepolcro con Daniela Frullani. Questo progetto nasce da un grande rapporto di collaborazione che esiste tra il mio assessorato e le 5 sindache donne del territorio della provincia di Arezzo. Questo documento è la dimostrazione del fatto che quando le donne si mettono insieme sanno lavorare bene, sanno lavorare bene in rete. Non è soltanto per l'8 marzo che dobbiamo pensare alle donne e questo documento effettivamente mette in evidenza tutti i buoni propositi che la parte politica al femminile vuole portare avanti. Ci si riflette poco sul fatto che molte aziende del territorio nascono proprio attraverso il talento femminile, dalla Buitoni all'Ingram, cose di lana, cioè tutti i marchi che sono importanti per Sansepolcro e la Valtiberina hanno avuto una matrice femminile.